Francesco, alla boia di 40 anni, ha imparato tante cose. Da uomo è riuscito a realizzare il sogno che ha sempre desiderato. Una famiglia, i figli, come una persona normale. Ci ho avuto tutte le persone che mi sono sempre state accanto. Gli amici, i cugini, gli irari. Perciò per me è la vittoria più bella, la vittoria più grande. Siamo cresciuti, sono cresciuti i figli. Sono cambiati tante cose, però l'amicizia è rimasta sempre la solida. Quella intatta, quella vera, quella di cui fidarsi eternamente.